Gruber è qui, ci raggiunge adesso. Ecco, allora sentiamo il punto, perché poi andiamo con Polloni, sentiamo il punto da parte di Renon di questo primo tempo. Ecco, i tuoi compagni di squadra stanno vincendo 1-0, in questo primo tempo sembrano più brillanti dell'Asiago, come li hai visti tu? Sì, il primo tempo è andato bene, abbiamo fatto tanto forechecking, sicuramente dobbiamo stare attenti ai due minuti, non prendere troppo due minuti, che l'Asiago è pericoloso sul power play. Fino ad adesso è andato tutto bene. Le tue condizioni, come stai? Tu salterai sicuramente queste partite, forse ce la farei per la nazionale? Sì, io spero già prima, però sto facendo terapia due volte al giorno, ho il medico che mi cura ogni tre giorni, che mi guarda. Per adesso sta andando tutto bene, spero che riesco ad entrare per gara 5, però non si sa ancora niente. Grazie, ti lasciamo andare nello spogliatoio con i tuoi compagni, ci vediamo dopo.